L'aumento c'è, graduale ma concreto, e lo certifica anche l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Mentre il tasso di occupazione ospedaliere di pazienti covid nei reparti di aree non critiche resta al 5% a livello nazionale, il Veneto vede un aumento dell'1% di ricoveri nelle ultime 48 ore, arrivando al 3%. Il fenomeno è sotto controllo, e lo vediamo, la curva è decisamente più bassa rispetto agli andamenti e le altezze che vediamo nelle curve precedenti, ma una piccola crescita c'è stata, quindi in termini assoluti tutto sotto controllo, in termini relativi invece sappiamo che se dovessimo andare ad incontrare una nuova ondata, quella curva tornerebbe alta, cioè niente di nuovo sul fronte, quindi di nuovo sono i nostri comportamenti che fanno sì che queste curve si alzino o si abbassino. Non è il virus, siamo noi che dobbiamo tenerlo sotto controllo. Il nodo cruciale resta questo, mentre di pari passo il contagio sta per toccare il picco previsto in settimana, prima del giro di Boa, come l'ha chiamato il governatore Zaia. Nei giorni imminenti al ferragosto si raggiungerà questo picco di questa ondata, che è stata chiamata la quarta ondata, e entro la fine del mese di agosto si attende un ritorno veramente in basso della curva dei contagi. A raccontare quanto pesi l'efficacia del vaccino sono i grafici delle curve che raccontano la storia della pandemia da un anno e mezzo a questa parte. Salta all'occhio un dato. La curva dei contagi oggi è addirittura più alta di quella di aprile 2020, in piena prima ondata, mentre la curva dei ricoveri odierni è nettamente più bassa rispetto allo stesso periodo. Cos'è cambiato rispetto all'ora? È cambiato che abbiamo imparato a conoscere il virus, qualche arma in più ce l'abbiamo e soprattutto abbiamo i vaccini. Il vaccino detto in parole povere serve principalmente per non finire in ospedale e non mettere in ginocchio i reparti, soprattutto le terapie intensive. Anche qui vediamo situazione sotto controllo, ma comunque una leggera crescita anche della terapia intensiva a fronte di un aumento repentino del contagio. Delta al giro di boa resta il problema delle altre mutazioni, ma anche in questo caso l'arma esiste. Di varianti ce ne sono tantissime, le si potrebbe registrare tutti i giorni, perché ogni volta che il virus fa una copia, fa una copia diversa rispetto alla versione precedente. L'importante appunto è che non nasca una variante in grado di sfondare il vaccino. Lo sappiamo noi a priori? No, non lo sappiamo ed è per questo che dobbiamo limitare la circolazione del virus. Proprio per scongiurare la nascita di una variante che sia in grado di aprire la porta del vaccino. Quindi vaccinandoci tutti e il più velocemente possibile potremmo far in modo di bloccare la circolazione del virus e quindi la nascita di eventuali nuove varianti pericolose.